Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere molto brevemente un video che ho realizzato per Nicola Moscatelli, il mio miglior amico da un bel po' di anni e la sua Ducati Scrubber. L'abbiamo realizzato in Sardegna quest'estate e niente, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Buona visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!